ecco la redazione ti ringrazia per la tua disponibilità e per l'intervista sono io che ringrazio voi per avermi dato modo di rievocare stagioni belle della mia vita e della vostra un ultimo ricordo mi riporta al castello aragonese baluardo contro i saraceni voglio qui ricordare una trattoria su un monte chiamata i lettoni per le testiere in ferro smaltato dei letti dove si mangiava la casareccia e ci si rilassava sulla vista dei campi flegrei fortunati voi di vivere nell'isola verde dei miei ricordi migliori grazie ischia